Salve a tutti, benvenuti in questo nuovo video dove andremo a vedere l'utilizzo del ciclo do while. Il ciclo do while, a differenza del ciclo while che abbiamo visto nel video precedente, permette almeno una volta di eseguire il ciclo. Questo perché la condizione è posta alla fine del ciclo, mentre per il ciclo while la condizione è posta all'inizio. Ora qui io ho scritto un semplice programma per vedere l'utilizzo del ciclo do while. Come prima cosa andiamo sempre a scrivere ad includere la libreria yoastream per includere le librerie di input e di output, dopodiché scriviamo sempre using namespace std, dopodiché diamo l'inizio al programma scrivendo la funzione int main. La funzione int main deve essere sempre seguita da una parentesi graffa aperta che dà inizio al programma e deve concludere con una parentesi graffa chiusa. All'interno di queste due parentesi graffe dobbiamo andare a scrivere il corpo del nostro programma. Come prima cosa vado a definire una variabile x di tipo intero uguale a 0, quindi andremo a scrivere int x uguale 0, dopodiché andremo a scrivere do, aperta parentesi graffa. Questo è l'inizio del ciclo. Il ciclo inizia con questa parentesi graffa e si conclude con quest'altra parentesi graffa, dove è scritta la condizione che si deve verificare per far sì che il ciclo venga eseguito ancora una volta. A questo punto iniziamo a scrivere all'interno del ciclo. Andiamo come prima cosa a incrementare la x, quindi ad incrementare la nostra variabile. Dopodiché andremo a scrivere cout, quindi un'istruzione di stampa, per stampare il valore della x, quindi andremo a scrivere la x è uguale a il valore della x, scrivendo semplicemente x. Il valore iniziale sarà appunto 0. Dopodiché andremo a scrivere endline, per dare uno spazio al programma. Inizialmente la x è uguale a 0. La x all'interno del ciclo viene incrementata, quindi passa da 0 a 1. L'istruzione x++ è un incremento unitario della x, quindi x più 1. Quindi la x inizialmente è uguale a 0, la x a questo punto sarà uguale a 1. Quindi stamperà il valore della x, quindi ci stamperà la x è uguale a 1, perché la x vale 1. Dopodiché va a verificare se la x è minore di 5. La x sì è minore di 5 perché è uguale a 1. Viene eseguito ancora una volta il ciclo, quindi la x si incrementerà ancora. La x da 1 passerà a 2. Quindi ci stamperà il valore 2 questa volta. A questo punto la x è uguale a 2, quindi l'istruzione viene ancora verificata. E quindi il ciclo viene eseguito ancora una volta. A questo punto la x è passata da 2 a 3, quindi ci stamperà il valore 3. Questo ciclo andrà avanti fino a quando la x sarà uguale a 5. Nel momento che sarà uguale a 5 e stamperà quindi il valore 5, non viene più verificata questa condizione, poiché la x è uguale a 5. Quindi questa condizione non viene verificata e il programma uscirà dal ciclo e stamperà questa scritta. Il programma è uscito dal ciclo e la x vale, inserendo la x ci darà il valore 5, il valore finale che la x è arrivata ad ottenere grazie al nostro incremento. Dopodiché andremo a scrivere return 0 e il programma uscirà. Ora andiamo a testare il programma andando su build and run. Vedete, ci stamperà per 5 volte la scritta la x è uguale al valore della x incrementata, quindi 1, 2, 3, 4 e 5. Alla fine, quando la x sarà uguale a 5, questa condizione non viene più verificata e quindi mi stamperà questa scritta. Il programma è uscito dal ciclo e la x vale 5. Ok, per questo video è tutto. Al prossimo video da MGTEC. Grazie.